La Commissione ha espresso un apprezzamento per il suo curriculum e per il suo percorso ha poi deciso di approvare questa medilaurea con voti 110 su 110 e le ha conferito la lode accadente. La Commissione ha approvato il suo percorso di laurea con voti 98 su 110 e le ha conferito la proclamo dottorio di sicurezza.